Sono ben tre i siti della provincia di Agrigento che attualmente si trovano nella classifica siciliana dei luoghi del cuore. Una classifica di gradimento organizzata dal FAI attraverso le preferenze che vengono date. La classifica parziale considera al momento i luoghi che hanno ricevuto almeno mille preferenze. La scala dei turchi di Real Monte è al primo posto e si trova peraltro nella top ten nazionale. Per quanto riguarda i luoghi siciliani troviamo il teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, costruito da un pastore e artista di nome Lorenzo Reina che ha realizzato in una zona panoramica della città un palco circolare dei posti a sedere costituiti da dei blocchi di pietra che riproducono la forma delle stelle della costellazione di Andromeda da cui il nome e il numero di posti a sedere uguale alle stelle della costellazione. Infine c'è anche la biblioteca lucchesiana di Agrigento costruita nel 1765 grazie all'opera del vescovo di Agrigento Andrea Lucchesi Palli membro della famiglia principesca e che oggi è dotata di più di 60.000 volumi manoscritti, codici, miniati e incunaboli.